C'è una cosa interessante e fascinante per me personalmente, perché adesso la mia seconda figlia ha fatto una azione rarissima, perché con i suoi amici, i suoi amici animali, per esempio, per un esempio interessante, il primo esempio, il primo esempio, il primo gatto, si chiama Pussy. Ciao Pussy, stai bene con te? Con la tua vita? Mi fedi? Mi fedi? Mi fedi? E il secondo amico è sicuramente questa è il gatto fascinante anche, il gatto bianco, dal lontano e dal vicino sembrava che sia come un gatto, come una, come un gatto femenile, oppure una, una gatta, eh, sorry, scusami, un gatto maschile o un gatto femminile? E la terza è sicuramente la mia seconda figlia. Ha fatto come il gatto sta facendo con questa posizione, come la posizione sacra di 1200 anni fa nel tempio di Phraumanan. Si chiama la statua di Nandi, sta facendo questa posizione durante 1200 anni fa, perché il tempio era stato fatto nell'esattamente 856, che ci indicano che questa posizione è la posizione della preparazione, la posizione preparativa per fare tutte le cose fuori e dentro della nostra vita. Eh, dove tu fai, amico? Fortunatamente, bene, la mia moglie mi ha fatto, mi ha dato, ci ha dato naturalmente anche perché con le mie tutte le due figlie, è un'opportunità di fare un business. Si chiama Tannaman Yeast. Tannaman è le piante yeast ornamentali, quindi le piante ornamentali e questo è i fertilizzanti, anche la terra fertilizzata. Un sacco di, come così, costa un euro solo, 15 mila. Mentre qui è la nostra collezione, la nostra collezione delle piante ornamentali. Questo si chiama Sri Rejiki, Rejiki ricchezza, Sri opportunità fertile. Quindi quando qualcuno ha piantato questo, questa pianta ornamentale di Sri Rejiki speriamo che sia. La ricchezza è affluente. Questo è sicuramente molto famoso nei Stati Uniti, anche nell'Asia. Aglo Nema. Etimologicamente è la parola dei Grecchi. Aglo Nema. Aglo come luce, nema come la villa. E poi dentro... Adè... Ayo, lagi dong. Adè, lagi dong. Tu stai facendo come la prima posizione con i tuoi amici femminili e maschili. I tuoi amici begati. Adè, ayo, lagi. Fai ancora di più. Ayo. Ayo. Ayo.